questa festa è da paura mi sto divertendo un casino candy devo andare a casa mia madre mi aspetta non più ti ho adottato migliore amiche per sempre facciamo festa tutta la notte Mabel andiamo alla festa dell'anno wow hai i biglietti niente feste il tuo esame è alle porte basta pulire andiamo a divertirci Mabel ti ho detto che deve brillare è ingiusto però candy ha deciso di salvare la sua amica e ha scugitato un piano astutissimo hai portato i soldi? non così in fretta voglio vedere la merce tesoro vieni eccola qui ed ecco i soldi non bastano aggiungo un piccione tigrato affare fatto firma il foglio adottata sì ti ho ufficialmente adottato ah ragazze e questo vestito? no se metto quest'altro? troppo noioso sembra divertente scegliere i vestiti come fa candy cattivo brutto non ho niente da mettermi basta vestiti aiuto ci siamo quasi è fatto la tua mappa della metropolitana è pronta grazie confondo sempre le fermate ecco tua figlia vedo Mabel è mia figlia adesso prego venite ricorda l'accordo nessun problema voglio un tatuaggio con la scritta Mabel si può fare nessun problema non guardare chiudi gli occhi farà presto dai fatto cosa? ti piace? a me tanto wow Mabel anch'io ti voglio bene io voglio un altro piercing all'orecchio ma certo lo facciamo subito ho proprio un bell'orecchino per te ecco fatto ti sta benissimo grazie ciao ci vediamo ma già sei qui piercing gps attivato ora so esattamente dove sono riprenderò mia figlia buongiorno ma dov'è la colazione? è ora di prepararsi per il college ma Candy sta ancora dormendo devo farmi i cereali da sola cornflakes e il latte che buono stessa vecchia colazione di nuovo cornflakes mi mancano le colazioni di mamma ecco fatto abbiamo finito i cornflakes e non c'è neanche latte Candy la festa era uno sballo ne vuoi un po'? sì tieni la parte più deliziosa marshmallow grazie ha un sapore divino sono un'ottima madre Mabel si occuperà di tutto questo e cos'è questo? ordinano per colore devo prepararmi per una festa va bene fatto è tutto organizzato andremo insieme alla festa prima però sistema tutto il mio trucco ci vorrà tutta la notte ci sono un sacco di cose mi serve un aiuto le mie mani scrivi subito sono adottata mamma ma sei tu ciao io amo la mamma Mabel svegliati ho fatto un brutto sogno ah non preoccuparti è stato solo un sogno non preoccuparti oh sì è una storia fantastica no il mio telefono è in frontumi che faccio adesso? Mabel ha un telefono ottima idea ciao ciao come va il college? tutto a posto posso vedere il tuo voto? ok dammelo dammelo che cos'è? una F eccezionale sei in punizione dammi il telefono e faresti meglio a studiare no vai tu a studiare il telefono di Candy è rotto cosa? sì sì sono io guarda non puoi capire quello che è appena successo no è il mio ultimo cuscino io ne ho più bisogno mamma sì che cosa ci fai qui? sono qui per riavere Mabel e rompo il nostro contratto eccoti i soldi e il piccione tigrato il mio piano ha funzionato wow Mabel hai già visto questo video? no anche io lo sto leggendo qual è il tuo personaggio preferito? devo andare wow Mabel le tue trecce sono fantastiche devono essere proprio divertenti basta lasciatemi sola mamma finalmente mia madre è la mia fioria amica cosa ha questo rumore? che strano Mabel che sta succedendo? niente mamma dimmi la verità è solo una festa non ti posso lasciare sola per un secondo ma dov'è finito il rossetto? è la borsa del trucco Mabel ecco chi mi ha rubato il trucco volevo essere bella come te capisco qui ci vuole un cambio di stile no, no questo è perfetto wow, grazie mamma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti